Bentornati sul mio canale e questo doveva essere l'episodio in cui andavo a cercare la tela di Penelope a Itaca. Il problema è che inizialmente sono morta perché non ero a livello abbastanza alto per poter fare la quest e quindi arrivavo davanti al tizio che doveva ammazzare e mi faceva il culo. E poi ci ho provato altre volte, un'altra seconda, una terza volta e in entrambi i casi non solo mi faceva il culo il tizio che doveva ammazzare ma Talo sponava nella mappa iniziando a fare su e giù e facendomi venire un po' d'ansia e quindi a un certo punto si è anche messo in mezzo e mi ha quasi fatto fuori quindi e niente sono morta tutte le volte. Quindi ho deciso che anche se ovviamente non farò degli episodi per i propri vi mostrerò le quest che io farò off screen in modo tale che poi vediamo insieme la trama ma sappiate che sto facendo delle cose anche se non le potete vedere in maniera approfondita che sono quest secondarie, punti di osservazione e robe del genere per prendere un po' di esperienza altrimenti, bene, non riesco ad andare avanti quindi e dunque, nelle quest off screen di Assassin's Creed Odyssey sono andata prima di tutto a farmi il punto di sincronizzazione di Cefalonia Nord perché ho scoperto che c'è anche quella Sud e andando l'ingiro ho preso un po' di questo nella bacheca quindi ho fatto una raccolta di pelli dove vabbè il lupo si è baggato in piedi, va bene e poi sono andata a fare il recupero della lancia super figa del tempio dove ho potuto osservare Alexios e le sue parti super sexy in acqua e poi io l'ho anche consegnata alla lancia quanto pare cioè credo me la potessi tenere ma ho deciso di dargliela perché almeno poi è in debito la tizia se il mio tempio potrà mai aiutare te o chiunque altro torna a trovarmi non lo dimenticherò poi stavo girando alla ricerca di altre quest e mi sono trovata un cane cioè nel senso un cane ha iniziato a venirmi addosso non so in questo gioco evidentemente i cani sono delle sentinelle per i soldati un cane mi è venuto addosso e niente si è buttato in acqua perché non lo so e si è baggato in acqua e potevo colpirlo in acqua non ho capito cosa... vabbè niente rimaneva pure in piedi non ho idea di cosa sia successo a questo cane poi vi ricordate che Febbra ci aveva chiesto di andare a vedere l'amica che stava alla costa occidentale con la febbre eccetera eccetera e ho fatto quella quest lì dove ho salvato i tizi prima che venissero ammazzati perché c'era sto tizio che diceva che loro avevano la febbre di sangue e niente cioè io li ho lasciati liberi perché non lo so che cazzo ne so io magari non sono manco infettati e sento che me ne pentirò veramente tanto perché ho la sensazione che questi torneranno a un certo punto e avranno tipo appestato metà Grecia poi... ah sì c'è stato questo dello squalo lo squalo che mi ha fatto morire da ridere perché c'erano questi che vendevano verdure erano nauseati anche delle verdure e volevano prendere un gioiello per andare via da Cefalonia ma il gioiello era controllato da uno squalo insieme agli altri amici squaletti e niente siamo andati a recuperare il gioiello ma io come una scema mi sono lanciata in acqua per farli fuori e sono morta e niente quindi l'ho rifatta e poi ho scoperto che wow io avrei anche un arco e quindi poi l'ho fatto fuori con l'arco e poverini non sono riusciti a sopravvivere insomma questi squali ho preso il gioiello e loro sono tutti un sacco felici che potevano andarsene via smettere di vendere verdure e io posso solo che capirli avremo una nuova vita diversa da questa so come vi sentite buona fortuna in ultimo mentre tornavo durante la quest dello squalo ho incontrato Talo che continuava a sponare vicino a me e niente l'ho sconfitto quindi Talo dei Tali vaffancapo è andato via siamo tutti molto contenti detto ciò ci vediamo nel prossimo episodio dove spero di prendere la tela di Penelope e di sopravvivere insomma alla quest principale ciao